Mia cara Beatrice, stanotte la luna è bellissima. Riesci a vederla anche tu dalla tua finestra. Non avrei mai pensato di scriverti una lettera. Ti scriverò. Vienimi a prendere Beatrice e saremo di nuovo felici insieme. Beatrice non è come noi. Lei non appartiene al nostro mondo. Ognuno ha il suo posto in questo mondo, Agatha. E tu sei al posto giusto. Attendo ancora la tua risposta. L'ambiente qui comincia a pesare più di quanto possa dirti. Scrivimi Beatrice. Non avrei mai immaginato sarebbe finita così. Scrivimi Beatrice. Ti sento rovinata dalla noia e dal dolore e mi sento sempre osservata. Perché non rispondo? Perché non ho fatto niente per fermarti. Ti prego, non dimenticarmi.